Andranno dritti a processo per concorso in truffa Mirko e Giorgio Braidic, 50 anni il primo di Silvelle di Trebaseleghe, 23 il secondo, residente a Piombino Dese. Si erano fatti tinteggiare casa pensando di farla franca con l'artigiano che avevano contattato sotto falso nome, una piccola ditta di Ponte San Nicolò. Il conto, arrivato a gennaio del 2016, ammontava 4.600 euro. I due prima avrebbero rinviato il pagamento con delle scuse, poi sarebbero spariti. La fattura è rimasta ancora oggi da saldare, ma la giustizia, anche se lentamente, ha fatto il suo corso e il PM di Padova, Sergio Dini, ha citato direttamente in processo i Braidic per truffa in concorso.